Tre cose che forse non sai su Alex Van Halen. Allora, Alex Van Halen è ovviamente il batterista dei Van Halen e insieme al fratello Eddie, grandissimo chitarrista che purtroppo ci ha lasciato qualche tempo fa. Pensate che all'inizio i due fratelli avevano iniziato con gli strumenti invertiti, ovvero Eddie Van Halen aveva iniziato a suonare la batteria e Alex Van Halen aveva iniziato a suonare la chitarra. Poi successe che nelle ore in cui Eddie lasciava la batteria libera a casa, allora Alex iniziò a sedersi, a fare le prime cose e capì che quello era il suo grande amore. Numero due, anche il padre dei due fratelli, Rocker Van Halen, era un polistrumentista e pensate che nell'album Diver Down compare mentre suona il clarinetto. Numero tre, Alex Van Halen, che è considerato un mentore della doppia cassa, fu anche il pioniere, uno dei pionieri ad utilizzare il roto tom, questi tom molto acuti che hanno come caratteristica la possibilità di cambiare accordatura. Se ti è piaciuto questo video metti un mi piace, condividilo e iscriviti al mio canale se non l'hai già fatto e tra i commenti ti invito a scrivere altre perle, altre chicche su questo grandissimo batterista, a volte purtroppo un pochettino oscurato dalla personalità del fratello Eddie, ma non per questo di minore importanza. Ciao a tutti!